Buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Questa volta il video sarà un pochettino diverso dal solito. Non ci sono bei paesaggi, non ci sono pesci, non ci sono tiri, non c'è attrezzatura, non ci sono chiacchiere inerenti alla pesca e all'ambito della nostra passione, ecco, diciamo. Quindi è un video un pochettino così. Però nella vita molte volte capitano degli inconvenienti come questo. È un bel inconveniente. E quindi bisogna tenerne conto e affrontare situazioni diverse e inaspettate. Una brutta ferita, mi sono fatto una brutta ferita alle dita, c'è anche una frattura e niente. Sono praticamente fuori uso per un po'. Quindi sono un assente giustificato se sparirò dalla rete per qualche tempo, ecco. Però niente di grave, la mano ritornerà come prima, è solo una questione di tempo. Però nel frattempo sono proprio fregato. Quindi divertitevi voi al posto mio. Chiaramente la vita normale di tutti i giorni, il lavoro, le cose quotidiane, in breve tempo, in qualche settimana, ritornerà tutto a posto. Però di qui all'andare a ferrare l'archetto di umata, a tirare, caricare, affrontare magari una bella scaduta con ombre giganti, situazioni del genere richiederanno un po' più di pazienza e un pochettino più di tempo. Quindi il primo ad avere pazienza chiaramente sono io. Voi dovete semplicemente divertirvi nel frattempo. Passate un buon marzo, pescate al posto mio e poi appena possibile riprenderemo, almeno io riprenderò la vita e le mie abitudini di pesca e di passioni che vi ho sempre trasmesso. Ecco, ringrazio tutti, ringrazio le persone che mi stanno vicine tutti i giorni, ringrazio chi mi lascerà un commento, mi fa sempre piacere. E niente, vi invito ad aspettare l'estate con entusiasmo, con serenità. Speriamo che la situazione in Italia non peggiori ulteriormente. Grazie per la visione, vi aspetto al mio prossimo video.